Ciao bimbi, come state? Tutto bene? Eccoci qui, siamo di nuovo qui, guardate un po', oggi abbiamo il grembiolino, sia io che Sam, perché vogliamo fare un'altra ricettina insieme a voi, perché io so che a voi piace tanto impastare con la farina, con le manine, e quindi vi va di fare insieme a me gli gnocchi, che ne dite? Qui abbiamo un chilo di patate già lessate e schiacciate, 300 grammi di farina, sale e questo è tutto ciò che ci serve. Pronti? Mi raccomando, seguitemi attentamente. Ehi tu, non sbirciare! Mettiamo la nostra farina. Adesso vi faccio vedere, eh. Mettiamo tutta. Ecco fatto, guardate. Adesso iniziamo a impastare i nostri gnocchi. Pronti? Tutti con le mani in pasta? Forza, forza! Allora, voi li mangiate gli gnocchi, io poi aspetto chiaramente tutte le vostre ricettine con gli gnocchi. Voglio vedere come li fate insieme alla mamma, insieme al papà. Mettiamo un cucchiaino di sale. E poi tutti con le mani in pasta. Ecco qua. Così poi andiamo a tagliare i nostri gnocchettini. Ok. Siamo pronti, eh. Io li taglio. Uno, due, tre. Eccoli qua. Adesso li facciamo, eh. Siete pronti? Guardate un po'. La raffa non è molto pratica, eh. Però ci provo. Eccolo! Il primo gnocchetto! Guardate! Ne faccio ancora un altro. Eccolo! Poi, voglio vedere tutti i vostri, eh. Eccolo un altro. Ancora un altro. Qui c'erano questi. Mettiamo qui. Tagliamo gli altri due. Ne facciamo ancora qualcuno. Eccolo! Qui. Ecco fatto! Ecco qui i nostri gnocchetti. Io adesso vado a preparare il sugo per i nostri gnocchetti. Poi, mi raccomando, mandatevi i vostri gnocchi. Ciao bimbi! Ciao! Ciao!